musica 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 ma come faccio? basta il discorso è chiuso musica allora musica musica quindi qui c'è un buchetto vedi che poi piano piano si chiude ancora per decimetro come ti fa così però comunque poi va via ma l'acqua prosegue no? diciamo datemi spazio di qua così me ne vedo dalle scatole musica 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 qui non so come risalire in questa roba scivolosa Gabriele guarda sta facendo come me come sta facendo? film oh che si fa? mi si aspetta o si torna dopo? mi aspetta musica 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 molti incidenti si avevano perché cascava il materiale e molti altri incidenti si avevano perché cadevano proprio minatori uno sull'altro quindi quando cascava la gente sopra era una catastrofe musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.